Nel tempo necessario per presentarti Loctite 4090, tutti questi materiali saranno incollati insieme utilizzando una innovativa tecnologia ibrida che combina velocità e forza. Ti presentiamo Loctite 4090, una tecnologia innovativa di Enkel che ha unito la velocità di un adesivo istantaneo con la resistenza di un adesivo strutturale. Nel passato il tipo di applicazione industriale imponeva l'adesivo che doveva essere usato. Gli adesivi istantanei consentivano di incollare molti materiali facilmente e velocemente, mentre gli adesivi strutturali garantivano resistenza agli urti, all'umidità e al calore. Ora Loctite 4090, grazie alla sua rivoluzionaria tecnologia ibrida, unisce i vantaggi di velocità e resistenza in un unico prodotto, formulato per soddisfare le richieste più impegnative. Cosa significa per te? I tuoi costi si ridurranno, diminuiranno i tempi di produzione e ridurrai i costi dei materiali. Con tutti i vantaggi uniti in un unico grande prodotto. Loctite ti fornisce una vasta gamma di soluzioni in una pratica confezione che minimizza gli scarti e massimizza l'efficienza. Velocità, forza ed edizione all'eccellenza, senza compromessi. Loctite 4090 Costativa 4090 Cost Europolari Costanza Quenza wort